Ciao a tutti e ben ritrovati. Dopo il post partita di ieri, oggi pagelle, quindi l'analisi di Fino sui singoli giocatori. Ovviamente lasciate like al video, mi raccomando, lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Anche perché la settimana prossima prevedo, ve lo dico, ve lo dico, prevedo una settimana di fuoco su questo canale. Perché se riesco nell'obiettivo vi butto fuori veramente dei video uno dietro l'altro, in sequenza diciamo così, belli tosti che sicuramente vi piaceranno. Video di quelli che vi piacciono, non dico altro, insomma ho 4-5 idee, insomma così. Quindi anche se c'è il blocco del campionato, io in realtà mi prenderò qualche giorno anche di pausa, ma farò dei video succulenti. Quindi ringrazio innanzitutto chi ha fatto super grazie ieri, quindi Luca De Regibus e Salvatore Masia. Ricordo che domani invece risponderò con un video ai vari super grazie che ho accumulato in queste vostre domande, accumulate in questi 10 giorni passati. Quindi quelli che scriveranno anche oggi delle domande, magari con le super grazie, avranno risposta domani in un unico video tutti insieme. E poi passiamo al prossimo giro, diciamo così. Andiamo alle pagelle, andiamo da Sommer. Sommer 6,5, attento, reattivo, lucido anche in fase di impostazione, partita esemplare, ieri perfetta, diciamo così. È stato poco sollecitato, quindi non possiamo dargli magari voti pazzeschi, però comunque assolutamente positivo. E aggiungo, Genova è un lontano ricordo. Questo diciamo che va a provare il fatto che fosse uno scivolone. Ecco, qualcuno aveva già cominciato a dire ecco Sommer in calo, Sommer per una partita. Un episodio isolato in mezzo a ottime prestazioni, insomma, è ancora lui, è ancora affidabile, assolutamente. Poi andiamo da Pavard. 7-7, in difesa non è stato magari molto solleticato, ma è provvidenziale, soprattutto su Reteghi nella ripresa con un bel colpo di testa. Insomma, Pavard è ottimo nel tempismo, nel colpo di testa, in queste situazioni. Quindi si esalta e è stato veramente provvidenziale. Ottimi soprattutto gli inserimenti interni nel primo tempo. Vi ricorderete che ha propiziato anche il primo gol, no? Con un key pass diretto a Mkhitaryan, che poi ha pescato Turam. Quindi ottimi questi inserimenti, appunto, verticali, interni, in mezzo al campo. A volte l'abbiamo visto anche andare a sinistra. Pavard ha comunque capacità, è un ex terzino, no? Quindi comunque uno che queste scappate ce le ha. E altra cosa, ecco, se anche ha lasciato qualche volta, insomma, la zona perché è salito, in questa partita abbiamo sofferto poco nelle ripartenze o nei buchi lasciati dai difensori che andavano su. Perché l'Atalanta aveva, da quella parte, Brescianini e Zappacosta, che insomma non sono Lokman e Ruggeri. Quindi non sono degli giocatori che attaccano lo spazio in maniera pericolosa. Quindi diciamo che ha avuto anche un po' vita facile nel buttarsi davanti senza troppi pensieri. Però comunque l'ha fatto molto bene. A Cerbi, sei più. Retteghi è sempre in allerta, diciamo così, è molto pericoloso anche ieri. Anche se non supportato dai trequartisti, diciamo, titolari o comunque, insomma, dell'Atalanta. Però comunque Retteghi è un giocatore pericoloso, no? Lo vediamo. Che ha gamba, che ha colpo di testa, eccetera. A Cerbi l'ha seguito anche se gli ha lasciato fare più di qualche tiro, sinceramente. Quindi diciamo, alti e bassi. Io subito sono partito con un voto un po' più alto, così a pelle. Poi ho rivisto un po' la partita e sì, positivo, ma senza eccessi. Quindi alti e bassi, dicevo. Perché ha fatto, è vero, dei bei muri, diciamo, dei belli interventi. Sì, attenti dove ha murato qualche tiro, eccetera, ma ha anche concesso qualcosa ogni tanto. La forma, in ogni caso, è in crescita. Lo dicevo ieri, ne posso partita. Sono fiducioso, l'ho visto in crescita, l'ho visto bene, meglio di altre volte ieri. Ha suonato anche la carica con un pressing pazzesco a un certo punto, andando addirittura verso il portiere. Ho avuto un attimo di timore perché lì si è toccato la gamba, sembrava che se avesse un risentimento o qualche cosa. Poi è andata avanti, quindi in teoria tutto a posto, in teoria, ecco. Quindi comunque in crescita, in crescita assolutamente. Anche se qualcosa ha concesso, concede, non è più come due anni fa. Ecco, quel ace, quel ace, no? Acerbi che contro Haaland non lascia nulla. Adesso chiaramente due anni in più si fa sentire. Però se cresce è comunque molto utile Acerbi per la sua esperienza. Bastoni, sei e mezzo. Solito giocatore attento, solido, dietro anche. Efficace nei tackle perché ha fatto anche dei begli anticipi, bei contrasti ieri, belli puliti. E come al solito, precisissimo, illuminante in fase di impostazione, di supporto e di inserimento e spinta sulla sinistra. Darmian, sei meno, ha iniziato ciccando, diciamo, un pallone e trascinandoselo fuori anche sul secondo palo dopo un ottimo cross di Di Marco. Al quindicesimo si è fatto saltare da Zappacosta, che non è di sicuro, diciamo, un bappé. Però Zappacosta è riuscito a saltarlo puntandolo, andando verso il centro e andando al tiro. Uno dei pochi tiri pericolosi dell'Atalanta di ieri. Poi, per il resto, ha tenuto, diciamo, prudentemente la posizione. Quindi non è che abbia fatto chissà che cosa. Sei meno, secondo me, è il voto corretto. Insomma, per quello che ho visto, avendo rivisto anche la partita, vedendo anche un po' i dati, eccetera. Darmian, devo stare attento ultimamente perché gli haters sono sempre pronti lì, no? E c'è molta emotività, come spesso ricordo, nelle analisi. In realtà, sì, non ha fatto nulla di che. Anzi, quelle due volte che è stato un po' impegnato, non è che abbia... Ha concesso una volta il tiro, una volta ha cannato sotto porta. Per il resto, non è che abbia fatto molto altro, no? Quindi, diciamo, di essere razionali, ragazzi. E non farci condizionare dalla partita o dagli altri o dal 4-0. Dobbiamo di stare un po' sui fatti e sui numeri, sui dati. Barella, 7+, alta prestazione invece di qualità e di sostanza, soprattutto. Mi piace tanto questo Barella. Costante, su alti livelli. Poteva starci forse anche un 7,5. Potrei anche andare su 7,5. Dai, lo cambio questo voto. Proprio lo scrivo, lo cambio perché... Adesso vi dico il perché. Riesco, vediamo se posso cambiarlo al volo. Eccolo qua. Dai, lo cambio con un 7,5 perché sì. Perché sì, se lo merita. Perché? Stavo dicendo. Perché mi piace questo Barella costante su alti livelli. Si può essere costanti. E la costanza è un valore. Però non è un valore assoluto. Perché uno può essere costante anche a ribasso. Anche Gagliardini era costante. Sì, costante su 5,5. Si può essere costanti a vari livelli. O mediocre, discreti. E Barella sta essendo, sta diventando costante su alti livelli. Costantemente. Questa è una cosa preziosa. Come Pavara, anche un altro che è spesso e costante su livelli alti. Barella forse ancora di più ultimamente. Quindi lo apprezzo tantissimo. Sapete quanto ho criticato in passato Barella per i suoi alti e bassi. Per il fatto di essere neurotico. E questa cosa spesso aveva impatto su di lui. Sulle sue cavolate in campo. E anche sulla squadra. E invece da un anno a questa parte io vedo questo scatto di maturità. E concludo in maniera poetica. Il sinistro al volo di ieri. Lo reputo. Lo voglio, sì a livello simbolico. Lo voglio reputare proprio un premio meritato. Con questo gol meritato. Questo premio proprio al suo scatto di maturità. Che io auspicavo e che abbiamo visto verificarsi. Quindi bravo, bravo, bravo. Continua così, mi raccomando. Non montarti la testa. Continua che stai facendo molto bene. Mi piaci. C'è la Noglu. Sei e mezzo. Inizia con una cannonata. No? Pazzesca. Poi ha tentato un inserimento super. Diciamo. Veramente tagliando il campo. E in mezzo. Inserendosi. Anche lui con grande libertà. Però c'erano gli spazi. E bisognava farlo. Ieri per partita l'ho spiegata. Questa cosa. Che in mezzo avremmo potuto bucare con gli inserimenti. Tra le linee. E poi si è divertito. Anche gestendo la manovra. Senza grandi affanni. Non è ancora il top. Ma è in crescita. È in crescita. Anche lui era un po' arretrato come condizione. E sempre di più sta entrando in forma. Quindi molto bene. Molto bene. Andiamo poi da Mkhitaryan. Scusate. Da Mkhitaryan. Sette meno. Bello deciso in alcuni contrasti. E pungente come un ago tra le linee. Questa è proprio la descrizione perfetta per ieri. Pungente come un ago. Pensate al primo gol. Ottimo inserimento. Proprio i tempi perfetti. Riceve il key pass da Pavard. E poi assist per Turam. Quindi. Ottimo. Ottimo. Serviva proprio questa cosa qua. Ieri dalle mezziali. Come dicevo poco fa. Andiamo da Di Marco. Sette meno anche per lui. La squadra gira. Ha girato bene. Per merito dell'Inter. E anche condizione. De merito dell'Atalanta. La squadra dicevo. Ha girato molto bene. Quindi per questo motivo. E lui può fare. Quando la squadra gira. Le cose sono anche facili. Il pallone ce l'abbiamo noi. E ci troviamo. Lui può diventare. Un regista esterno. Con la qualità che ha. Col piede che ha. Senza doversi magari. Imbarcare in duelli. Che a volte. Magari non sono il suo punto forte. Ieri è riuscito a galvanizzare. I suoi lati positivi. Grazie anche alla squadra. La partita. Comandata. E la sua qualità. È uscita fuori. Proprio con dei bei cross. Con dei bei traversoni. Veramente pennellati bene. Come lui sta a fare. Ah una cosa. Ieri a un certo punto. Ha fatto un tiro. Senza pretese. Era da solo in attacco. E. Un po' dalla distanza. Un po' così. Che ricordava. Il famoso gol. Da 40 metri. 50 metri. Ecco. Mi ha fatto incazzare. Perché il. Cioè non lui. Ma il cronista. Perché ha detto. Ah ma forse voleva metterli in mezzo. Voleva metterli in mezzo. Ma sei dio. Cioè. Voleva metterli in mezzo a chi. Che non c'era nessuno. Era chiaramente un tiro. Senza pretese. Per provare. Il colpo che lui ha. E basta. Quindi c'è ancora qualcuno. Che non riesce a capire. Che Di Marco ha questo colpo. E pensa che sia un cross sbagliato. Cioè. Io veramente. Rimango sempre. Vabbè. Andiamo avanti. Quindi. Questo è un. Complemento indiretto a Di Marco. No. Una difesa. In sua. Una difesa di Marco. Dicevo. Vabbè. Ottimi cross. Non sono stati sfruttati. A volte pensiamo su Lautaro. Però. O anche Darmian. Però comunque. La sua qualità. Quando le partite si mettono. Così viene fuori. Lautaro. Sei. Vari errori tecnici. E anche in fase di finalizzazione. Un po' spreconi. Un po' così. Però. Secondo me. Il ritmo comincia ad esserci. Anche lui sta prendendo forma. Diciamo. Condizione. E i movimenti. Secondo me. Ci sono. Ce l'ho visto. Ieri l'ho visto. Della partita. Molto di più. Rispetto alla prima. Contro il Genoa. Dove invece. Non c'era. Ed è stata un'esagerazione. Tererlo in campo. Tutta la partita. Sinceramente. Là proprio. Era proprio da togliere prima. Proprio. Una roba. Era un giocatore. Mezzo giocatore in meno. Ieri no. Ieri no. Sì. Non è ancora al 100%. Lo si vede con vari errori. Magari fa una cosa giusta. Poi ne fa una sbagliata. Però. Era della partita. È stato utile. Si è mosso bene. Il ritmo c'era. Ne aveva. E quindi. Condizione comunque in crescita. Sì. Non ancora benissimo. Però. Secondo me. Per il derby. Sarà assolutamente pronto. Io. Credo di sì. Insomma. Senza. Senza dubbio. Turam. Otto. Altra partita decisa da lui. Semplicemente. Devastante. E straripante. Si trascina dietro. Veramente chiunque. Pensate a Deronna. Che. Neanche aggrappandosi. Placcandolo. Lo riusciva a tenerlo. Questo qua scavava per terra. Era fantastica. Ripresa. E. Ha attaccato la profondità. È venuto incontro. Ha driblato. Di testa. Si fa valere. In mezzo. Fisicamente. Si fa valere. Davanti alla porta. È un segugio. Se questo è Turam. Nel senso. Se continua così. È veramente. Ha fatto un passo in avanti. Ulteriore. E. Diventa veramente. Un giocatore. Veramente. Raro. Cioè. Comunque prezioso. Importante. Molto molto importante. Già era forte l'anno scorso. Se fa quello scatto in più. Dove migliora alcune cose. Dove veniva un po' meno l'anno scorso. Beh. Stiamo parlando di un giocatore. Veramente rilevante. Andiamo su Arnautovic. Cinque e mezzo. Sta simpatico Arnautovic. Perché è un amabile tamarro. Chiamiamolo così. È il tamarro però. Quello che sta simpatico. Perché. Sì. Non so. Per come si comporta. Così. Non è antipatico. Quindi. Però. Però. Ha cannato. Quattro scelte. In cinque minuti. In dieci. Cinque dieci minuti. Insomma. Nell'atmosfera di festa. Quattro a zero. La si prende bene. E quindi. La si vuole vedere. In senso positivo. No. Quindi. L'altruismo. L'altruista. L'altruista. Perché. Quattro a zero. Quindi. Vabbè. Altruismo. Però. In realtà. Non ci siamo. Sicuramente. Non ci siamo. Giustifichiamola pure così. Con l'altruismo. Ma è da quando è arrivato all'Inter. Che fa l'altruista. Arnautovic. Non con i compagni. Con gli avversari. Nel senso che. Sbaglia gol. Non li mette dentro. Infatti. Anche lui. Si è incazzato ieri. Questo è la lettura giusta. Poi. Non vuol dire. Essere contro il giocatore. Ma. Diciamo la cosa come stanno. Se ci raccontiamo le favole. Perché. Tutto sommato. Ci sta simpatico. E. Vabbè. No. Bene. Sei e mezzo. Per l'altruismo. Non ci siamo. Se ieri fosse stato uno a zero. Avremmo. O zero a zè. Avremmo tirato giù il mondo. No. L'avremmo riempito di fischi. Quindi ecco. Cerchiamo di non andare sugli estremi. A me. I fischi non piacciono. Non sono per gli insulti. Ma non sono neanche per le favole. Perché tante volte. Ripeto. Si va molto emozioni. Non si riesce molto nel calcio. Purtroppo. C'è molto lavoro da fare. A essere. Analitici. Freddi. Ecco. Tante volte. Chi è analitico. Poi passa per cattivo. E contro quello. Pro quell'altro. Eccetera eccetera. Quando in realtà. Semplicemente. Guarda i numeri. Analizza. E. Cerca di vedere in maniera più. Razionale possibile. Le cose. Vabbè. Anche perché le favole. Non aiutano. Inzaghi. Sette. Abbiamo giocato contro. L'Atalanta B. Ma. L'Inter. Ha fatto il suo. Senza guardare in faccia. A nessuno. Approccio. In casa. Da grande squadra. Siamo scesi in campo. Belli. Belli. Concentrati. Determinati. Fregandoci nell'avversario. Ma guardando a quello che dovevamo fare noi. Quindi. Bene. Molto. Veramente. Molto. Molto bene. E ne è uscito. Un 4 a 0. Tondo. Tondo. E meritato. E meritato. Piccola parentesi. Perché prima ho detto. Atalanta B. E c'è qualcuno. Anche qua. Con le emotività. Eccetera. Forse perché. Qualche hater. Magari del canale. Siccome ha fatto gli apprezzamenti. All'Atalanta. Come gestione societaria. E non si vuole capire. Però lì bene. Così si intende. Tutto. Allora. C'è qualcuno che gode. Per cui. Perché abbiamo vinto 4 a 0. E deve. Tirare fuori cose che non c'entrano. O giustificazioni. O cose. Eccetera. Eccetera. No. L'Atalanta. Veramente era l'Atalanta B. Non è una giustificazione. Questa. Non è una cosa. Perché mi sta simpatica. L'Atalanta. Cerchiamo di essere razionali. Onesti intellettualmente. Era l'Atalanta B. Mancava. Yen. Lockman. Scamacca. Scalvini. Cossonu. Nuovo acquisto. Giocatore fortissimo in difesa. Zaniolo. Colasiniac. Cioè. Tutti i titolari che hanno. O che diventeranno titolari. O titolari. Anche in finale di Europa League. Eccetera. Su cui l'Atalanta punta. E su cui. E che fanno la differenza. Ok. Gli altri pochissimi titolari che erano in campo. Deron. E Ruggeri. E Pasley. Cioè. È vero che erano in campo. Ma erano tutti e tre. In ruoli. Totalmente adattati. Fuori ruolo. Deron faceva il braccetto. È come se noi avessimo in campo. C'è la Noglu. Metti il braccetto. Lo consideriamo un titolare. Perché. C'è la Noglu. Bisogna anche vedere dove cazzo gioca. Ruggeri. È un esterno. Tipo Dunfries. E l'hanno messo braccetto. Abbiamo avuto braccetto. È come dire Dunfries. Che abbiamo braccetto. Sono confuso tra Dunfries e Ruggeri. Però. Capitiamoci. Ruggeri. Esterno. Come Dunfries. E giocava dietro. Quindi. Sì. Insomma. Cerchiamo di essere un po' onesti intellettualmente. Era l'Atalanta B. Questo vuol dire togliere meriti all'Inter. No. Perché i meriti l'Inter ce li ha. Probabilmente anche con l'Atalanta titolare. Avremmo. Immagino avremmo vinto. Perché l'Inter ieri ha fatto una gran partita. Però magari avremmo vinto. Non so. 1 a 0. Per dire. Avremmo vinto. Meritando. Ma. La partita sarebbe stata più difficile. Ecco. Quindi cerchiamo di essere un po' onesti intellettualmente. Cazzo. Motto. Fatte tirar fuori. Ecco. Il Veneto. E anche. E aggiungo. Eh ma Samarci Bellanova. Tu dicevi forti. Eh invece. Guarda com'è. Samarci Bellanova. Era la prima volta che giocavano titolari nell'Atalanta. Cioè. Ragazzi. Porca troia. Cioè. Devo sempre. Me le tirano fuori. C'è poco a fare. Devo sempre. Sono sempre sotto attacco. Da degli attacchi. Che sono cretini però. Non c'è mai una critica. Veramente. Organizzata. Che si basa su dato di realtà. Ragionata. Sono tutte veramente attacchi. Emotivi. Da gente che rifiuta la realtà. E che deve per forza. Vabbè. No le palle piene. Scusatemi. Comunque. Concludiamo. Quindi l'Inter. Atalanta B. Ma l'Inter. Ha meritato. Ha giocato bene. Sì dal punto di vista dell'approccio. Ma. Arrivo. Anche finalmente. Alla. Alla questione tattica. Preparazione ottima. Anche a livello tattico. L'Inter ha fatto tutto quello che doveva al 100%. Quindi. Ripeto. Avrebbe vinto. Secondo me. Anche con l'atalanta titolare. Alto ritmo. Di passaggi. Sovraccarico laterale. Inserimenti centrali. Per bucare le linee in mezzo. E. La punta. In verticale. Con l'autaro. Molto spesso. Che veniva incontro. Eccetera. Da manuale. Tra parentesi. Prepartita. Perché. Nel prepartita. Di ieri. Aveva proprio. Eh. Auspicato. Che l'Inter. Giocasse. Proprio. Così. Cioè. Proprio in questo modo qua. Magari. Mettendo. Appunto. Anche. Dunflis. A posto di Darmian. Che sarebbe stata. Un'aggiunta. Non è che siccome abbiamo vinto 4-0. Allora. Ecco. Hai visto. Abbiamo vinto 4-0. Da Darmian. Magari con Dunflis. Vicevi 5-0. Avremmo avuto un mismatch positivo. Contro Zappacosta. Zappacosta. Non ha mai impensierito. Non è uno che impensierisce davanti. Eppure è andato via. A Darmian. Magari con Dunflis. Non andava neanche via. In più Dunflis. Impensieriva Zappacosta. Per dirne una. Però. Anche qua. Si va sempre a risultatismo. Siccome sei vinto 4-0. Allora. Hai visto. Che ti sbagliavi. Col cazzo. Dov'è l'evidenza che sbagliavo. Quale sarebbe. No. Lo so. Vabbè. Infatti. Infatti Darmian. Data. Data la partita. Insomma. Non è che abbia brillato. È stato uno di quelli meno positivi. Giocato male. La partita è stata dominata dall'Inter. È difficile che uno. Faccia chissà che cosa. O paghi chissà cosa. Se l'Inter ha dominato la partita. No. Però con un. Con un Atalanta. Con Lockman. E Ruggeri sulla fascia. E. E. Anche. Tutto l'impianto. Un po' più. Titolare. Eccetera. Magari avremmo pagato qualcosa. Questo che non si riesce a capire. Alle statistiche. Al trend. E non. Alla singola situazione. Episodica. Che però ti può andare. Vabbè. Avete capito. Tanto. Dico queste cose a fine del video. Che tanto. Chi arriva alla fine del video. Tenticamente. Chi segue. Vuol capire. E non ha bisogno di queste spiegazioni. Quindi. Vi rompo sempre le balle. Alla fine. Queste cose andrebbero dette più all'inizio. Però all'inizio. Poi. Sono ostico. Antipatico. Allora. Uno si ferma. Insomma. È complicato. Far divulgazione. Vabbè. Perdonatemi. E anzi. Vi ringrazio. Lo vostro. Oltre che supporto. Anche sopportazione. Ogni tanto. Dei miei piccoli. Diciamo. Sfoghi. Però veramente. Tosta. A volte. Ho la pressione. Lo stress. Addosso. È difficile da gestire. Ogni giorno. Sei sempre bersagliato. Da gente che non capisce. Quello che vuoi dire. Che. Penso sia semplicissimo. E giustamente. Direte voi. Lascia stare. Fottitene di questi. Avete ragione. Avete ragione. A presto. Ragazzi. Non vedo l'ora di farvi. Nuovi video. Perché ne ho veramente. Tante cose belle da dirvi. Cioè. Interessanti. Insomma. Domani. Video su Super Grazie. E poi. Da lunedì. Magari mercoledì. Altri video. Non so se spoilerarveli. Ragazzi. Sono veramente. Però. Sono video. Diciamo. Fine di mercato. Video Excel. Video sul bilancio. Magari anche di altre squadre. Tutte queste cose. Che vi piacciono molto. E quindi. Video belli tosti. Video belli tosti. A presto. Grazie mille. Vi voglio bene. Forza Inter. Bella partita ieri. Bravi tutti quanti. E niente. Andiamo in pausa. Belli calichi. E dopo. Bisogna tornare. Pronti. Perché c'è Monza e Milan. Uno dietro l'altra. E bisogna insomma. Arrivare al derby. Belli. Belli. Belli come si deve. Anche perché ho scoperto. Che. Prima. O dopo del derby. Non mi ricordo. Ma attaccato al derby. C'è il city. C'è la trasferta contro il city. Mamma mia. Mamma mia. Cioè. Veramente. Si parte. Pesante. Si parte pesante. Si parte molto pesante. Vabbè. Ne parleremo. A presto ragazzi. C'è la trasferta. C'è la trasferta.